Si siamo riuniti ora per la prima volta, c'è parecchi corridori nuovi, sicuramente ci sarà un po' di ambientarsi un pochino, però sicuramente sono ragazzi già esperti e la squadra credo che sia un ottimo gruppo da lavorarci. Ma diciamo che come risultati non è che sono stati un granché, in senso come avrei voluto io, però c'è stato delle crescite di certi corridori tipo Maresco, che basta ancora un pochino e sono convinto che se la potrà giocare con i velocisti, quelli buoni, è ancora giovane però è migliorato parecchio. Poi c'è Pozzato che mi auguro che quest'anno riesca almeno a gestire la condizione come la seconda parte della stagione, anche se non sono arrivate le vittorie, la seconda parte della stagione mi è piaciuto molto, è stato sempre attivo lì davanti e spero che si riproponga come la seconda parte della stagione, non come la prima. E niente, Busato è sempre stato competitivo, spero di ritrovare un buon fedi dopo i suoi problemi fisici, un buon fedi. Abbiamo dei ragazzi giovani, i due spagnoli, Amescueta e Rodriguez, abbiamo due colombiani giovani, sia Martinez e Flores, che ne parlano tutti un gran bene e hanno dei grossi numeri. Abbiamo una squadra molto competitiva e abbiamo dei ragazzi nuovi, entranti, molto interessanti. La nostra fortuna deve essere di trovare qualche giovane che diventi un corridore, anche se dopo un paio d'anni ci andrà via, però almeno che ci leva qualche soddisfazione. Sono convinto che i due colombiani, i due spagnoli, i due ragazzetti che l'anno scorso gli abbiamo fatto fare il Giro d'Italia apposta per farli crescere e che quest'anno sono convinto che un passettino in avanti lo possano fare anche loro. Sì, esatto, di qualità. Dobbiamo pensare che sono ragazzi di 20 anni, 21, Martinez ha compiuto 19 anni, l'anno scorso ha fatto il Giro d'Italia a 20 anni e ci vuole anche il suo tempo. Essendo giovani hanno tutto il tempo per diventare. Qui hanno la possibilità di andare a fare anche delle corse di un certo rilievo, forse negli squadroni non hanno spazio ad andarle a fare e possono crescere con più tranquillità. Ora sta a loro dimostrare, però stiamo sempre parlando di ragazzi giovani. No, no, questo è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Per me un ragazzo quando viene a fare il Giro non è che si rovini perché finisce il Giro, anzi, per me finendo il Giro gli dà quella resistenza fisica, mentale e anche muscolare di non finire il Giro. Per me non si finisce un corridore, i corridori si finiscono con altre cose ma non con gli allenamenti o con le corse. Non ho mai visto un corridore che corre tanto, poi quando un corridore fa 60 corse l'anno e ha fatto un grande Giro non credo che abbia corso tanto. Forse corrono di più nei dilettanti che corrono sabato, domenica, martedì, gira tappe che nei professionisti. Credo che finire il Giro è un passo in più per diventare corridori. Questo è il mio punto di vista, poi mi posso anche sbagliare ma non credo. Super. Niente, la Coppa Italia non è che l'abbiamo anche persa anche noi perché eravamo in vantaggio però purtroppo abbiamo fatto un finale di stagione che non abbiamo raccorto le vittorie. Nella Coppa Italia chi vince fa i punti e chi non vince non le fa e noi non abbiamo vinto. La sfortuna nostra è stata che Corbrelli e Ruffoni hanno vinto e loro si sono meritato la Coppa Italia e noi no. Tutto qui, capito? Nel finale di stagione conta vincere per raccogliere i punti e noi non abbiamo vinto niente. Il problema è questo. Non si poteva vincere la Coppa Italia senza aver vinto neanche una corsa. Ma sai, Maresco è un velocista, deve lavorare ancora per migliorare un pochino la salita perché è il suo difetto. Difetto, fra virgolette, come hanno il difetto i velocisti. Sta migliorando, sta lavorando parecchio, ha lavorato tanto sulla resistenza e è un ragazzo tutto da scoprire. Come velocista ha gli ultimi 100 metri bestiali, diciamo, da paura. L'abbiamo visto anche in Turchia quando ha battuto Greipel. Però deve ancora migliorare sulle distanze, sui percorsi un po' meglio impegnativi e giovani. Ci vorrà tempo. Sono convinto che ha trovato la squadra giusta per migliorarsi. Poi sta a lui se scegliere poi in futuro di fare un passo nelle Pro Tour. Però io credo che un velocista, come mi insegna il tempo indietro, qualcuno che è andato via da me, gli avevo detto di aspettare per migliorare. Per me sono ottimi corridori, però non hanno fatto quel salto che dovevano fare. Io spero che Maresco, un ragazzo intelligente, aspetta il suo momento e poi quando deve decidere il suo futuro migliore lo deciderà quando è pronto. Se arrivasse la Willcard vorrei un Giro d'Italia, non come l'anno scorso. Questo è logico. Vorrei un Giro d'Italia da squadra combattente e senza farci tante illusioni. Perché noi siamo una squadra piccola e lottiamo con i squadroni. Se vai a vedere la Sky, vai a vedere la Stana, vai a vedere la BMC, vai a vedere l'organico di queste squadroni qua, sono da far paura. Noi bisogna avere la fortuna di correre con intelligenza, buttarsi nelle fughe e avere la possibilità di vincere una tappa e farsi vedere e essere sempre là davanti per fare vedere il nostro marchio, la nostra squadra, che abbiamo due sponsor importanti, due sponsor italiani, che investono in ciclismo, sia la Willard sia l'Italia. Io credo che sia la cosa migliore per farsi notare. Poi, andando in fuga, c'è la speranza di poter vincere una tappa. Ma no, classifica, non credo. Abbiamo preso Cociovoi, che per me è un ragazzo molto interessante, che viene dalla Lampre e può provare nell'età in salita a rimanere con i primi, però con rispetto.